Siamo con mister Fabio Ulderici, tecnico del Chievo Women, dopo la vittoria delle sue ragazze contro il Brescia. Che partita è stata mister? Innanzitutto faccio i complimenti alle ragazze che sono state meravigliose perché hanno fatto una partita di grande comando, personalità, maturità. E quello che volevamo vedere per me era importante fare un risultato con una squadra da non in su. Sapevamo che non sarebbe stato facile perché comunque il Brescia è una buonissima squadra, allenata bene, che comunque aveva i nostri stessi punti. Quindi vuol dire che stava facendo una stagione positiva come la stiamo facendo noi. Però noi abbiamo avuto la partita in assoluto comando per 90 minuti, non abbiamo rischiato praticamente nulla. Se fossimo state un pochino più precise tecnicamente nel primo tempo e nel secondo, probabilmente avremmo finito il primo tempo anche con qualche gol in più. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto tre situazioni di tu per tu col portiere dove abbiamo calciato dentro l'area di rigore. Però quel che conta al di là del risultato che è molto importante è quello che abbiamo visto in campo come presenza, come idee, come atteggiamento, come idee di gioco. E sono molto molto contento però quello che conta in questo momento è festeggiare ma poi pensare già alla prossima perché il campionato è ancora lungo e non abbiamo fatto ancora niente. L'hai detto tu che il campionato è lungo però le ragazze hanno mostrato una certa maturità perché oggi poteva, e l'hai detto anche tu, essere una partita complicata contro un avversario che aveva gli stessi punti del Chievo che fa parte un po' di quel gruppetto che è un po' distanziato dalle prime ma un po' distanziato anche dalla parte calda della classifica. Quindi maturità direi che è forse la parola principale di questa prestazione. Sì, maturità e poi devi avere la capacità di non far entrare in partita le avversarie. Quindi il fatto che noi siamo andati fondamentalmente in pressione 90 minuti, uomo su uomo alte, questo dimostra che abbiamo fatto tanti passi in avanti. È stato proprio per cercare di non far entrare in partita loro, per andare a recuperare il migliato della palla. Abbiamo recuperato tante volte il pallone subito nella loro metà campo, ripeto, abbiamo rischiato poco o niente. Dobbiamo migliorare la chiusura della gara perché queste partite qui diventano poi partite difficili e tu se non la chiudi rischi poi con una mezza palla inattiva di andare in difficoltà. Però veramente l'atteggiamento, io faccio complimenti a tutte, è un gruppo meraviglioso, faccio complimenti allo staff per quello che fa quotidianamente per cercare di alzare il livello. Io quello che voglio dire è che non sentiamoci appagate, portiamoci a casa i tre punti che meritiamo, ma dobbiamo pensare a farne altri tre domenica prossima perché sono determinanti. Tra le singole, senza stare troppo a sottolineare, però una prestazione che mi sentirei di sottolineare tanto è quella di Martina Pizzolato, che ha fatto una gran partita, ha rischiato anche di trovare il gol nel primo tempo. E' rimasta in partita, nonostante abbia corso tanto fino alla fine, quindi forse è un po' l'emblema di questo Chievo, ma anche altre ragazze tipo Sajon, Landa, comunque tutte sempre in palla fino alla fine. Tu hai fatto il nome di Martina, io ti aggiungo il nome di tutte le altre perché poi comunque chiaramente non basta mai sempre solo una giocatrice, ci vuole il gruppo completo, comunque quelle che sono in campo in quel momento lì, attive, pronte ad aiutarsi, pronte a recuperare magari dell'errore della compagna. E poi chiaro Martina è una giocatrice per noi importantissima, però ne abbiamo tante, tante altre che potrei citare, ma andremo avanti fino a dopodomani. Questo è un gruppo che merita tanto, chiunque venga chiamato in causa fa bene, siamo una squadra giovane, lo sappiamo, ma di qualità. Noi sappiamo dove vogliamo arrivare, cosa vogliamo fare, sappiamo anche che però dobbiamo faticare tanto e siamo pronti a rimboccarci le maniche e guardare avanti perché vogliamo toglierci delle soddisfazioni. Ti chiedo in chiusura, prossimo impegno a Bologna contro un'altra squadra che comunque ha sempre dimostrato nei mesi di essere in crescita, anche se un po' distanziata in classifica, ma è una squadra che ha anche elementi pericolosi dal punto di vista individuale. Che ti aspetti? Non esistono partite facili, adesso il campionato di ritorno, il giorno di ritorno, più ci avviciniamo alla fine e più sarà difficile, perché quelle che magari hanno bisogno di punti per salvarsi mettono sempre qualcosa in più. Non è facile, non è facile. Bologna è una buona squadra, una squadra che comunque ha delle individualità che conosciamo, che hanno qualità. Oggi mi sembra che abbia vinto, quindi arriverà in salute, arriverà con fiducia. Però noi affronteremo la gara come facciamo sempre, non ci preoccuperemo troppo dell'avversario, cercheremo di portare in campo quella che è la nostra idea, quelle che sono le nostre qualità. E io sono convinto che questa squadra ha qualità e deve affrontare ogni partita a testa alta con coraggio per vincere. Grazie. Siamo con mister Aldo Nicolini, tecnico del Brescia, dopo la sconfitta contro il Chievo. Insomma, sconfitta che è maturata dopo un gol nel finale del primo tempo. Che partita è stata mister? Una partita sicuramente difficile per noi. Non siamo riusciti a giocare come volevamo, sicuramente la pressione loro era forte e questo ci ha messo un po' in difficoltà. Non siamo riusciti a creare il gioco che solitamente riusciamo a fare e questo ci ha fatto stare dentro la partita in un altro modo, non sicuramente nel modo che piace a noi e quindi l'abbiamo sofferta sicuramente. Nel primo tempo, insomma, qualche opportunità l'ha avuta il Chievo con Tasselli che è stata brava fino al momento del gol, l'aveva anche salvato in un paio di occasioni. Nel secondo tempo cosa è mancato secondo te? Un cambio di atteggiamento o comunque anche quello che dicevi tu, è stato sottolineato insomma tutta la partita, la pressione del Chievo che non vi ha reso facile proprio giocare? No, no, sicuramente questa è stata la cosa più evidente, nel secondo tempo qualche spazio in più l'abbiamo trovato, non tantissimi per la verità e quindi questo non ci ha permesso di attaccare gli spazi in un certo modo. Infatti abbiamo creato pochissime situazioni e opportunità per pareggiare la partita. È altrettanto vero che non ci sono, non è che loro hanno fatto dieci occasioni da gol e nel secondo tempo poche anche loro, quindi la partita è stata molto intensa e è giocata lì con poche conclusioni. Però dobbiamo accettare quello che ci ha detto il campo, è una sconfitta che non ci piace, per cui dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare. Finora in classifica, insomma il Chievo e il Brescia fanno parte più o meno dello stesso gruppetto, insomma erano pari punti fino ad oggi, adesso distanziati di tre punti. Siete comunque in una situazione relativamente tranquilla, però il campionato è ancora lungo e come dicevi tu ci sarà sicuramente da lavorare? Situazione tranquilla, non lo so, le partite sono tante, quindi dobbiamo stare molto concentrate, molto attente. Le partite sono tutte difficili contro qualsiasi tipo di avversario e quindi sappiamo che abbiamo ancora tanto da lavorare per arrivare a quello che vogliamo raggiungere. Il prossimo impegno non sarà semplice perché poi arriva una delle due capolista e viene a giocare la Lazio in casa vostra. Sarà anche una sfida così importante, uno stimolo in più per provare a ripartire e magari fare lo sgambetto a una squadra così quotata? No, per noi tutte le partite sono uno stimolo importante contro qualsiasi tipo di squadra perché davvero il nostro valore non ci deve permettere di pensare in modo diverso contro l'avversario che andiamo a incontrare. Scusa, l'avversario che andiamo a incontrare non ci può far cambiare idea rispetto a quello che siamo, quelli che sono i nostri connotati e sappiamo bene quali sono, dobbiamo averli ben presenti e stare molto concentrate su quello. Grazie. A lei.